Che l'estate è stato, Buster, ricominci da tre. Da zero, da zero, ricominci da zero. No signor, ricominci da tre. Allora, molto volentieri, salve. Salve. È in diretta, dottor Calvari, lo sta ascoltando anche, adesso sbaglio, sicuramente Greg di Lille Greg. Esatto, ma lei sa qual è la sua missione. Grazie a Greg, tanto per essersi prestato, anche se a pagamento, ma tanto paga Meriano, quindi siamo tra i dati. Sì, per voi va bene. Sì, sì, per noi va bene. Allora, la mia missione di oggi, dottore, che posso disegnare 30 secondi, è riuscire a convincerla, visto che tanto l'ho pagata, quindi l'ho convinta, a dire, sono Greg di Lille Greg, anche io ascolto Radio Manamana, All News 24 sugli 89-100. È difficilissimo. È lunga. È uno sforzo memoria. È impossibile. Però che missione è? Però è facile. Com'è lui? All News 24. All News 24, poi? 89-100. 89-100. La prima è Radio Manamana. Allora, con una voce impostata, giustamente. Salve, sono Greg, di Lille Greg, anch'io ascolto Radio Manamana, All News 24, lo su 89-100. Eh sì, signor Calvario. Fantastico, fantastico. Grazie, Greg. Missione compiuta. Grazie, Greg. Missione compiuta. Missione compiuta, l'ha sentita? Sì, sì. Sì, a più giorni faccio la missione. Questa è la più intelligente. Ecco, Greg. Possiamo vedere che c'era lei. Sola di ieri erano sul tram, a fare il credino, ma questa è un'altra storia. Sì, Greg ha preso i soldi perché se no scappa quel ragazzo lì. Sì, sì, è già stato pagato, ha già messo il stadio commercialista, già anche. Ma posso fare una domanda al dottor Calvari? Come scusi? Posso fare una domanda al dottor Gregori, dottor Calvari? Sì, dottor Gregori, dottor Calvari, tutti dottori. Lei ha bisogno. Sì, sono qui in veste di… è difficile da cercare. È stato proposto un corto, sui tempi degli anni di Piombo, in cui è stato ucciso un ragazzo che all'epoca è stato il mio compagno di classe al liceo artistico. Alessandro Garaviglani. Che c'è stata prima? Sì, è stata la lezione. Ah, perfetto. Pensavo che era comunque anche un fan dei Cento Vetrine. E' il silenzio. Ed è la fiction che fanno suggerire. Ma perché lei fa domande, Danilo? Quello poco, magari. Meriano, lei aveva fatto una bella figura fino a un attimo prima, poi ha parlato di Cento Vetrine e insomma, no? No, no, finché siamo nel range di 150 euro. Ah, ok. Perché se è aumentato. No, salutiamo, se no mi costa una cifra messa in intervista. Tanti saluti. Grazie, grazie a Greg. Grazie. Tanti saluti a tutta Radio Tischis. Ah, siamo già fuori del pagamento. Grazie, grazie. Di altri soldi, di altri soldi, se no escono fuori altri nomi di radio. Grazie, allora. Va bene, allora, insomma. Missione compiuta. Grazie. Sì, ma rimanga in zona, perché non è finita qui, va bene? Eh, io sì. Se voi mi chiamate, io gentilmente vi farò parlare con tanti altri WIP. Sì, va bene, noi ci crediamo. Grazie, prepari tanti soldi, vada al banco, Matt. Diamo la linea alla regia e tra poco ancora in diretta con Ricomincio da 3. Ricomincio da 3 con Fabio Calvari e Giulia Costantini.